Antonio Pentangelo, presidente della provincia di Napoli. Ieri è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto del capo dello Stato Giorgio Napolitano sullo scioglimento del consiglio provinciale di Napoli. Che cosa è successo? Era un atto atteso in quanto alla procedura di decadenza ha nel suo ambito la previsione che alla scadenza delle prime elezioni utili si provveda a rivotare per quell'ente per il quale è stata programmata la decadenza. Nel nostro caso era un decreto che si attendeva e avendo compiuto la procedura nei termini legge con le assalute prescrizioni di quanto era richiesto dalla legge noi rientriamo in quei casi nei quali non si è intervenuti con il commissariamento, cosa che invece succede per coloro che hanno invece avuto la stessa procedura dal 5 novembre in poi. Quindi evitiamo il commissariamento e il consiglio provinciale, la giunta e il vicepresidente, nel caso specifico il sottoscritto con la qualità di presidente facente funzioni, continua nel suo mandato e quindi nel rispettamento delle sue funzioni fino a nuove elezioni. Il consiglio provinciale di Napoli quindi è sciolto oppure no? Allora sembra strano, formalmente è sciolto perché c'è un decreto del nostro presidente della Repubblica che lo scioglie. Nei fatti la legge fa sì che è una sorta, vogliamo chiamarla prorogazio, è una sorta di continuo nelle attività fino alle nuove elezioni. Il vero dato è che le elezioni non sono ancora fissate per cui questo fine a nuove elezioni assume un significato di punto, ha un punto interrogativo che non ci fa capire con precisione quando tutto ciò avverrà. Quando ci potrebbero essere le nuove elezioni? L'ultima legge di stabilità e poi dopo l'attuale governo ha stabilito che entro il 31 dicembre del 2013 dovranno essere, cioè si è prorogato di un anno tutta l'esame della problematica attinente alle province, al diordino delle province italiane. Tutto ciò dovrà essere compiuto entro il 31 dicembre 2013, questo dice la legge. Ora nel frattempo con un governo che è di là da venire, da vedere la sua nascita e con tutto quello che bisogna i prioritari che ci saranno in futuro, ora quando si darà e noi ci auguriamo presto una risposta certa alle esigenze delle province italiane, ricordo non solo quella di Napoli, sarà un qualcosa che penso farà bene anche ai nostri cittadini. Napoli dal 1 gennaio 2014 diventa città metropolitana. Che cosa cambia giuridicamente per la provincia di Napoli, per tutto il comprensorio provinciale di Napoli che è uno dei più popolosi d'Europa, conta oltre 3 milioni di abitanti? Al momento sono ancora da stabilirsi anche gli ambiti territoriali, quindi l'esatta definizione geografica e quindi il perimetro di questa provincia, di quest'area metropolitana. Alcuni la fanno corrispondere con i confini della provincia, altri l'allargano addirittura. Non si sa quale sarà il finale. Entro il 31 ottobre del 2013 noi dovremo provvedere insieme al Comune di Napoli a redigere uno statuto che regolerà quindi la vita in futuro dell'area metropolitana. Noi siamo attivamente già al lavoro da tempo, abbiamo avuto uno stop dovuto alle elezioni che indubbiamente hanno bloccato questa attività. Abbiamo già ripreso, abbiamo fatto una convenzione con l'Ordine degli Ingegneri, una convenzione con la facoltà del Sorosola Bene in Casa, ne faremo un ulteriore con la Federico II perché vogliamo arrivare ad un regolamento che sia il più snello possibile ma che abbia al suo interno tutti gli ambiti di operatività che l'area metropolitana potrà avere e quindi anche un vestito giuridico.